Scatteranno da domani 21 aprile le nuove zone rosse decise dal governo regionale che fanno salire a 29 i comuni abruzzesi dove insistono le maggiori restrizioni rispetto alla zona arancione espressione del DPCM Draghi. Sono tutti nella provincia di Teramo i nuovi ingressi e si tratta di Giulia Nova Castellalto e Torricella Sicura. L'ordinanza firmata ieri sera dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio trae origine da una relazione dell'ASL di Teramo nella quale si parla di un incremento dell'incidenza dei contagi e dunque di un alto rischio di diffusività virale anche in riferimento alla circolazione delle varianti. Marsilio più volte ha insistito sul carattere preventivo di queste misure al fine di evitare la diffusione del contagio in altre aree della regione e contenere così la pressione sul sistema ospedaliero. Nella Marsica molti comuni sono da due settimane in zona rossa e non mancano le critiche rispetto alle decisioni del governatore, critiche sollevate dai sindaci in prima linea in questa emergenza pandemica. Sinceramente sono rimasto un po' basito da questa decisione, io ritengo insomma che in questi casi conoscere il territorio sia fondamentale perché fare i calcoli con la calcolatrice non dà come dire un quadro chiaro della situazione. Noi siamo una comunità che ha avuto la fortuna diciamo in questa seconda e terza ondata di non avere un'incidenza altissima di casi, a maggior tutela abbiamo svolto uno screening massivo, non c'erano altri casi oltre quelli strettamente connessi al caso indice e quindi la situazione mi sembra abbastanza sotto controllo. Noi è un anno che combattiamo questa situazione di grossa difficoltà del sistema della struttura sanitaria territoriale che non è stata risolta. Alla mia popolazione che dico? Dico di avere ancora un po' di pazienza, dico però che purtroppo questa zona rossa definita dall'ordinanza presente della regione è anche il risultato dei numerosi casi che abbiamo qui nel nostro comune. Il problema serio si manifesterà appena finirà l'emergenza sanitaria, ci troveremo ad affrontare un'emergenza socio-economica di dimensioni vaste. Il problema dei ristori è un problema serio, abbiamo segnalazioni di molti ritardi purtroppo nelle piccole e medie imprese. Cosa diversa invece debbo dare atto al governo che abbiamo risorse per ciò che riguarda il sostegno alle povertà.